Ora andiamo a Ventimiglia dove per ragioni di igiene e di sicurezza è stata sgomberata l'area delle gianchette e diventata un accampamento di fortuna per migranti. Antonio Zagarese. Non c'è nessuno oggi che cammina nel creto del Roia. Sono arrivati questa mattina Ruspe e Cassoni, un'operazione della polizia di Ventimiglia, come deciso dal prefetto alcune settimane fa, sgomberare l'area delle gianchette adiacente al parcheggio sotto il cavalcavia lungo gli argini del fiume, solitamente rifugio per migranti, motivi di sicurezza e igiene pubblica. Non solo bivacchi, di fortuna per così dire provvisori, col tempo era cresciuto un vero e proprio accampamento, pericoloso per il rischio di incendi, l'arrivo di animali selvatici, topi e cinghiali e condizioni igieniche precarie. Poco prima dell'insediamento in comune il neoeletto sindaco Flavio Di Muro è andato proprio alle gianchette, eccezione fatta per le operazioni di oggi, la gestione dei luoghi normalmente sarà dell'amministrazione. Dovrebbe aprire il primo pad per minori, donne e soggetti vulnerabili, c'è un bando della prefettura in corso per 600 posti Cass in provincia di Imperia, quindi magari anche qualche altra realtà fuori i 20 miglia può dare un contributo alla città per i sistemi di accoglienza. Su questo ne parlerò con il prefetto, se del caso sarò anche al Ministero dell'Interno. La convivenza tra residenti, commercianti e migranti, l'accoglienza sul territorio delle persone in transito è stato uno degli argomenti della campagna elettorale e sarà uno dei temi di confronto con l'opposizione guidata da Gabriele Sismondini. Per ora confermate le scelte di prefetto e commissario, a 20 miglia ci saranno 4 pad, punti di assistenza diffusa, destinati ad accogliere donne e minori.